Mi sono sempre piaciuti gli sposalizi, si chiamavano sposalizi, le spose avevano veli come questi qua, una specie di cosa che va bene per la rete delle mosche, si festeggiavano nei ristoranti di Ciccillo, uno ce n'era nel paese e i cuta cuta affluivano così da tutto il resto d'Europa per costruirsi le loro case con i blocchi di cemento, blocchi di cemento, si ergevano così le case nel freddo e nel vento dell'Occhino, paesi che si chiamano Occhino, che già dice Malocchio, Occhino, dove stavano personaggi Ciccillo con i parenti in Canada e le foto sulla credenza e si trovavano la sera a ballare per i matrimoni e allora si giravano e si inforcavano grandi giri di danze con gli sposi, io pensavo che da grande avrei fatto il matrimonio più pieno di petardi, con più portate, 17 portate, oro, oro addosso, oro in testa e confetti e petardi per la mia sposa e avrei avuto i miei peggiori amici a cantarmi 16 distrofe di Cielaluna a Mezzomare per spiegare per quali e quanti motivi la sposa non si doveva maritare. Degli uccelli che camminano la notte mi dissero da piccolo, non vagano nemmeno le penne, neanche quelle sono buone da mangiare. Ci sono artisti autobiografici, io sono pre-biografico, prima scrivo le cose e poi mi succedono. Sono uno di quelli con lo spazzolino in tasca, mi faccio la toilette nei bagni dei ristoranti, dormo sui pullman nei sedili delle auto e poi mi lavo come i gatti nei bagni pubblici. Ospite, sono ospite, che mestiere fai? L'ospite, che bellezza, pioggia finta, fiori di plastica che durano per sempre, non un giorno solo e per ultimo l'apertura delle porte come Mosè sul Mar Rosso. C'è un che di biblico nei motel. Erano in un motel sua statale, sotto di loro pitoni in gabbia, tarantole e i guana verdi chiusi in gabbia con foglie di insalata, rumori di tir. Nel parcheggio una ragazza giovane bionda con i capelli biondi appiccicati alla fronte, disperata, piange. L'uomo vestito di scuro con la cravatta chiara le apre la porta della Mercedes station wagon, lei non entra, inizia a piangere. Lui con i capelli appiccicati e i baffi, corpulento sui 45, si avvicini imbarazzato, poi l'abbraccia. Sono nel parcheggio del centro commerciale, il tramonto. Le nuvole bianche, scure e insignificanti, io avevo una borsa di birra comprata al magazzino di Piano Terra e trovo che sia sempre confortante avere perlomeno un centro commerciale sotto. il motel è un parcheggio a disposizione. Questa è la giacca della prima campagna, adesso sono arrivata la quarta, quella di Calacuta, la repubblica dei nullafacenti, dei famma fumà, famma fumà. Quelli cioè che non hanno neanche le sigarette e te le chiedono, diciamo famma fumà. Fatemi fumà, fatemi fumà. Ha fatto Napoleone, lo faccio pure io. È arrivato fino a Mosca, l'ha trovata bruciata, mezza, mezza l'ha bruciata. Lui ha fatto bene. Non si può. Non si può passare la vita solo a pensare a che cazzo c'è da scrivere. Io ho scritto, io ti brucio. Hai capito? Ti brucio così la pianti. Non parlo più con nessuno, solo per scrivere. Adesso, quasi che ci avessimo... Io te lo do. Ah sì eh? Ah la vuoi fare così? Camere d'albergo. Camere d'albergo. Io vi brucio senza tacchino. Ci avessi almeno da farci... Ah! Toh! Toh! Mi piace stare negli alberghi buoni. Mi piace starci dentro, con le luci delle bajure accese, anche se di giorno. Rigirarmi tra la moquette e le lenzuola bianche. Mi piacciono anche quelli in stile motel, essenziali, tutti fatti di tendaggi, dichiaratamente hotel, che non simulano una casa. E' proprio una stanza assettica, di passaggio. L'unica cosa a cui faccio caso sono le bajure. E infatti l'illuminazione mi da qualche problema, tant'è che me ne porto sempre qualche... una personale di riserva. Mi piace starci dentro le stanze come in un uovo nell'anonimato, tra gente anonima. Scostare un po' il tendaggio e vedere scorrere il traffico fuori senza sentire il rumore. Dalle città un aspetto straniero. E' come vederle sono... sono zone franche, insomma. Mi piacciono i motelli. I lunghi corridoi, le porte in fila. E' la solita storia. L'identità si realizza nei posti costruiti e costruiti per l'anonimato. Adesso mi piacciono questi in stile... svizzero, americano. Però quando fa più caldo sono meglio quelli più rumorosi, quelli del sud. Quelli come a San Antonio con la gente che ci vive dentro, ci litiga dentro, urla dentro, si ubriaca dentro. La promiscuità dichiarata, insomma. Questa qua invece del congressista è una tregua dichiarata con l'opulenta pianura. Sembra che il presente si realizza perfettamente solo nei punti di passaggio. Negli spazi di passaggio. Gli autogrill, gli hotel, le stazioni, le automobili. Tutto quello che non presuppone un ritorno. E' singolare poi come spesso questa situazione di consapevolezza sia per noi più forte in posti destinati all'anonimato. A me piace stare ai margini senza essere parte di una città e senza non esserla. Mi piacciono le tangenziali e mi piace rintanarmi nelle stanze di motel con le vetrate di modo che possa vedere passare le macchine di fuori senza sentire il rumore. E non sapere neanche di preciso di quale città si tratti. Mi piace perché il cielo da più l'impressione di cadere addosso quando c'è spazio intorno. Ed è un po' il fascino dell'Eternet e dei capannoni. Se proprio devo stare in clandestinità preferisco starci nei posti adepti alla clandestinità. Ci sono volte che non si pensa che ci se la farà a rialzarsi di qua. Però in qualche modo la giornata finisce sempre in un altro posto rispetto a qua. Non viene da crederci. Non viene da crederci che ci se la può fare e invece ci se la fa sempre. E non si sa se è un bene o un male. La strada può o edificare o entusiasmare oppure scavare. L'anima a volte si rivolta come un uncino. E ho la forte sensazione che mi rubi parecchia vita. Ma dà pure una certa soddisfazione mettersi in automobile, avere mal di testa, infilarsi gli occhiali scuri, imboccare i viali alberati della tangenziale, di una tangenziale e lasciarsi alle spalle il posto dove si è buttato un poco di vita. sante parole. Un secondo.